mamma me sapete che giornata vedi e voi maresciallo buongiorno avvocato è tutto a posto maresciallo posso dire una cosa che è successo noi ci conosciamo da tanto tempo è una vita che ci conosciamo avvocato la sera quando tu e tua moglie fate le cose di Gesù ci chiudi non ho capito scusate avvocato non riesco a capire se parli di stampatello forse si capisce te lo devo dire più chiaro la sera quando tu e tua moglie fate l'amore chiudi la finestra non ho capito avvocato è meraviglia di lei cioè non ho capito perché ognuno c'è a casa sua ognuno fa quello che vuole perché dovrei chiudere le finestre non riesco a capire beh te la devo dire tutta da qua ieri sera si vedeva ieri sera e ieri sera non stavo a casa io ieri sera si vede ieri più aspi avvocato aria 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 look è X3